Si tratta proprio di una esecuzione, vero? Eh sì, un'azione ben congegnata. Sono arrivati con la gip e l'hanno speronato. Lui è sceso dall'auto, ha cercato di difendersi, ma non c'è stato più niente da fare. Il colpo di grazia gli è stato sparato da molto vicino. Come fa a dirlo? Dall'alone del foro di entrata. Più è largo, più il colpo è ravvicinato. Ma sei un uomo di Sant'Andrea? Sì. Però qualcun altro al posto tu sarebbe corso a vomitare. No, io no. Magari svengo per un'iniezione, ma fin da piccola ho sempre voluto diventare medico legale. Sono iscritta a medicina, e chi lo sa? Forse un giorno... Bene, allora auguri. Anzi no, porta male, in bocca al lupo. Crepi. Chi è?